Sì, c'è uno spiegato dappare l'argo Veniamo in calo scura, c'è uno Ah lui Guarda qui veniamo in giù Dì che è secato Precisamente la dompetiva Sì c'è una condizione Ah lui C'è uno che ha fatto la scuola Bianco, qui vedi Sì tu vi Ma il è l'errozi Ma il è il? C'è uno di qua in pax Grazie a tutti.